Musica Bella a tutti i Freeweaders e bentornati a questo appuntamento con Spliff Break Oggi apriamo parlando della situazione dei test antidroga proposti dalla Dadone per i parlamentari Sinceramente questa situazione ci ha un po' stancato Perché non è questa la richiesta che fanno i consumatori, non è questa la necessità per aprire un dibattito consono Alla situazione richiesta dalla società civile e soprattutto necessario per l'avanzamento normativo Su una norma, quella sugli stupefacenti, che è arretrata Quella in particolare sulla cannabis è specifica, è del 1990, bisogna adeguarla ai giorni nostri Non è possibile poi che queste situazioni del test antidroga, ovviamente proposte dai parlamentari Come se uno per fare il proprio lavoro debba per forza nella sua vita precedente Nei suoi tre mesi precedenti col test del cappello e quello che si rileva non aver mai utilizzato cannabis Allora non dovrebbe mai aver utilizzato nemmeno caffeina, nemmeno alcol Che però non vengono magari rilevati È ridicolo, è sufficiente che uno magari non sia sotto effetto se sta facendo un certo tipo di lavoro E allora è necessario magari adeguarli i test antidroga che ci sono sulle strade Che oggi rilevano le sostanze in troppo lasso di tempo E poi il test delle urine per la conferma della guida sotto stato di stupefacenti Che rilevano il tempo fino a settimane e mesi prima, dando dei falsi positivi Quello andrebbe rivisto, non solo fare il test del cappello per dire Eh vabbè allora, visto che siete negativi potete parlare Fratelli d'Italia hanno fatto il test, sono negativi e possono parlare Ecco, e sapete cosa hanno detto? Hanno fatto il manifesto contro la droga Dopo il manifesto collettivo per la liberalizzazione della cannabis Fatto a 350 associazioni e aziende Per spingere una proposta di legge per liberalizzare la cannabis E fare un passo avanti utile e abbracciato a livello internazionale Ecco la risposta di Fratelli d'Italia Immancabile, attesa, necessaria ovviamente Ma andiamo a vedere questa proposta del manifesto contro la droga Però comunque in alcuni punti si può anche essere d'accordo In via teorica, ovviamente Però in altri non si può assolutamente trovare d'accordo Anzi, viene un po' da sorridere Andiamo a vedere i punti che ora compariranno Sono dieci, li affrontiamo un po' al contrario Per analizzare anche un po' le incongruenze di alcuni di essi Beh, vediamo subito il decimo punto Beh, qua nessuno vuole promuovere l'uso E quindi siamo completamente d'accordo che serva assolutamente un'educazione all'uso Però non una repressione Il punto 9 dice che sia l'uso medico della cannabis, sembrerebbe Ma solo per gravi patologie Beh, in realtà non ha senso questa situazione Perché le sostanze stupefacenti, le cosiddette droghe Magari non tutte quelle classificate Ma sono in farmacia e non solo per gravi patologie Quindi ha poco senso questa definizione Il punto 8 Chiusura dei cannabis shop Dobbiamo davvero dire qualcosa Da quando un partito di destra va contro delle partite IVA Regolamentate e regolari E soprattutto che oggi Oggi non c'entrano nulla con le droghe Con le sostanze stupefacenti In quanto la normativa si incardina proprio All'esterno della normativa sulle sostanze stupefacenti Punto 7 parla di certezza della pena Ed eventuale rimpatrio per gli spacciatori Beh, sul rimpatrio ovviamente quello dovrebbe avvenire per un reato Se non c'è il permesso di soggiorno eccetera eccetera C'è già una normativa che lo incardina Mentre per quanto riguarda la certezza della pena Sì Quale miglior modo di certezza della pena Che non una regolamentazione in cui ci siano condotte lecite E condotte illecite Oggi è tutto illecito Si fa una mescolanza assurda Ed è per quello che non c'è certezza della pena Cara Giorgia Il punto 6 e il punto 5 parlano di più risorse Per il contrasto e potenziamento dei servizi Beh, si può anche essere d'accordo su questo Ma sempre nell'ambito di una differenzazione Tra condotte lecite e condotte illecite Il punto 4 Come non essere d'accordo col punto 4 Libertà di cura e diritto di scelta Sì Però questo deve essere applicato poi per i punti 3, 2, 1 Che andremo a vedere Non soltanto per i punti immaginari 4 Perché fa bello dire libertà di cura e libertà di scelta Ma se poi imponete O vorreste imporre Uno stile di vita sano a vostro modo di vedere Allora non è più libertà di scelta E se la libertà di cura è solo come dita al punto 9 Per le gravi patologie Ma allora che libertà di cura Che diritto di cura c'è È un po' contrastante con tutto questo Ma soprattutto La libertà di scelta è contrastante con la 3, 2, 1 Andiamo a vedere Il punto 3 parla di legalizzazione Che aumenterebbe le dipendenze patologiche Che non fermerebbe la mafia Allora beh intanto sul non fermare la mafia L'abbiamo già detto Non è che la estirperebbe regolamentare Ma sicuramente la contrasterebbe molto di più di quanto è oggi Dove si lascia in mano tutto il commercio E si fa finta di reprimerlo O si fa finta di aumentare la repressione Che però vediamo non funziona Tant'è che i consumi sono un aumento E quindi non funziona Non è che lo diciamo noi Lo dicono i dati In più la legalizzazione aumenterebbe le dipendenze patologiche Ma al massimo Al massimo le potrebbe identificare E curare E intervenire in un modo Meno invasivo di una repressione attuale Che identifica una persona come disadattato Perché utilizza sostanze E quindi lo isola Con una regolamentazione si include Si va a analizzare questa situazione Si affronterebbe meglio Questa situazione Per il benessere della società E lo dicono gli studi scientifici Non noi Il punto 2 parla di cultura della vita Contro la cultura dello sballo e della morte Ma nessuno è a favore della cultura della morte O della cultura dello sballo Come non si può essere contro la cultura della vita Sono situazioni troppo generiche La cultura dello sballo Intanto è una cosa Può essere anche antropologica Può essere non vista come negativa Può essere non vista come ricerca dell'abuso Anzi Un'educazione all'uso Con una regolamentazione Contrasterebbe veramente La disillusione dello sballo che c'è oggi E si identificherebbe Lo sballo andandolo a analizzare Andandolo a inserire socialmente E poterlo affrontare Poterne parlare È una conseguenza Delle leggi repressive La disillusione della cultura dello sballo di oggi Che antropologicamente Quando la legge non è repressiva Si include efficacemente Con lo sviluppo delle società Soprattutto l'uso di cannabis cosciente Il punto uno è pazzesco Le droghe fanno tutte male In realtà se andiamo a vedere la situazione Non sono le sostanze che fanno male Ma è il tipo di utilizzo O eventuale abuso che se ne fa E soprattutto Come dice la cultura storica Citiamo Paracelso ad esempio È la dose che fa il veleno Quindi il quantitativo di una sostanza Che ne porta a un'eventuale negatività Quindi non diamo semplicemente la colpa Scaricando la colpa Le sostanze stupefacenti Per tutti i malesseri Della nostra società Perché non ha senso E soprattutto non è un modo corretto Di intervenire Sulla situazione Sul fenomeno di diffusione del consumo Se uno vuole preoccuparsi di questo Realmente come sta facendo Secondo noi Non troppo seriamente Giorgia Meloni Con il suo partito frate d'Italia Ma se si vuol fare seriamente Allora bisogna parlarne Regolamentare perché è efficace Perché contrasta l'abuso Perché si può ridurre il danno In questo modo Si diminuiscono i consumi Si stabilizzano i consumatori Si certificano i prodotti Si dà sicurezza Alla società Si possono contrastare davvero le narcomafie Non annullarle Non distruggerle Ma contrastarle davvero Ed ecco Noi davvero non capiamo Come sia possibile Ancora oggi Che nessuno degli altri partiti politici Si opponga davvero A questo manifesto di Fratelli d'Italia Che ricordiamolo però In chiusura È frutto di una crociata Errata completamente Dal ministro Dadone Che ha lanciato una crociata Con i testi antidroga Completamente fuori luogo È completamente fuori tempo E anche fuori dalle richieste Fatte dalla società civile Che premevano Col ministro Per indire la conferenza antidrogue E confrontarsi con le parti sociali Perché non c'è bisogno Di giustificarsi con le proprie idee Bisogna portare contenuti E dimostrazione Delle proprie idee Altrimenti si sta soltanto Facendo propaganda E non serve oggi Ben a tutti i free readers Fateci sapere cosa ne pensate Come sempre nei commenti Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E continuiamo a diffondere Informazione E a pressare Noi ci vediamo Lunedì O domani O domenica Con uno speciale importante Dove parleremo anche Dei numeri al senato Non l'abbiamo dimenticato Bella free readers Continuiamo a lottare Sempre Fino alla libertà Noi ci vediamo 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 Noi ci vediamo